Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio Ma perchè? Benvenuti in questo nuovo episodio Sto per iniziare il quarto episodio della vanilla Della mia vanilla Potrebbe andare male l'episodio? Ehm... Spero si no? Non pensiamoci ragazzi Non pensiamoci Allora Dov'è il mio mondo? Credo che sia... Aspetta Ci sono troppi mondi Non capisco Dov'è? Questo è Quello là Non è quello? Questo è Ragazzi scusate se sto facendo così Ma non riesco a trovare il mio mondo Di cui vuole in sopravvivenza Dai Ok Stai lavorando Il mondo Ragazzi aspetta Questo è il mio mondo Beh ragazzi In questi giorni Ho fatto un bel po' di esplorazione E mi sono creato un bel po' di spada in ferro Così appena si rompe questa Ehm... Ragazzi non l'ho fatto in creativa Se non ci credete Guardate Ora io vado qua Vedete? Ti sento i trofei? Se i trofei sono disponibili Se i trofei sono disponibili Sono nei mondi impostati In modalità sopravvivenza Senza strutture attivi Quindi faccio indietro Quindi avete Il testimone Che io Non Diciamo Non ci credo Cioè io oggi volevo andare Alla ricerca di questo villaggio Dei ghiacciai L'abbiamo già trovato? Ma io non me ne ero neanche accorto Nella mappa Cioè stavo esplorando Perché stavo preparando un video In questi giorni Volevo trovare i ghiacciai Dopo giorni ho trovato finalmente gli ghiacciai Non ci credo ragazzi Da dove era? No Non ci credo No Non No Ma che diavolo? Cosa è successo? Dov'era? Dov'era? Qui dove ho iniziato la vanilla? Ma Dov'era quel buco? No Non ci No Ma ci ho messo tre episodi Per farmi l'armatura in ferro Ci ho messo una settimana No Una settimana no Però Quasi un giorno intero Perché gli episodi quelli lì Li ho registrati di fila Ci ho messo un po' No 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 Non ci credo No Non ci credo Non mi ricordo neanche No Non Devo rifare tutto da capo Non ci posso Non ci posso Sono morto Ecco perché io vi dicevo Non mi sono attivato la cap inventori Perché se io mi attivo i trucchi Poi mi toglie Sono le mosse impostate in sopravvivenza senza trucchi Io non volevo i trucchi Vedi Non posso mantenermi l'inventario Sei messo pure a piovere Ma Ma No No Ma pure Cioè Pure le nuvole sono tristi Non ci credo Diventa mio amico Ti prego Pure Tu Eh Non so però come fare la sella No Non ci credo Qua dove è esploso il creeper Me lo ricordo Me lo ricordo Qua era esploso il creeper Oh Quanti zombie sono Ah Ragazzi sono morto Dov'era quel buco Ma poi non era Molto profondo Si vedeva poca vita Non ci credo Ragazzi Non ci posso credere Sono morto Devo riniziare tutto da capo Non muori Non muori Hai detto Via Mamma mia Te ne vuoi andare? Sono imbestialito Lascia Lascia Mi stai Devo scappare Proprio dagli zombie Ma si deve mettere Per forza a piovere Non ci credo Cioè Non è anche il tempo Ma non male Qua ci sono le torce Cioè Sto rivedendo Il mio passato Ma voi ancora Mi inseguite? Mi avete seccato Sapete? Mi avete seccato Cato Perché non muoiono? Guardate Mi seguono Vero Non ho fatto Vero No 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 Aspetta Maledetto ragno Io odio i ragni Che schifo Ragazzi manca così Da mettermi in creativa Ve lo dico io Cioè Non doveva succedere Ragazzi Se succedeva Quando avevo Le cose Gnamante Cioè dopo Sapete cosa succedeva? Mi incavolava tantissimo Cioè ora Devo riniziare Tutto da capo Cioè è un ritorno A passato Mi stai dicendo Cioè mi stai dicendo Che io sto facendo Un episodio Un ritorno al passato Cioè sono ritornando Nei primi episodi E poi questi Sono i primi episodi Cioè io sono morto Nei primi episodi Della vanilla Ma vi rendete Che sfortuna? Cioè non è durata Neanche Quanto? Una settimana? Cioè io proprio Non sono capace Di fare un mondo In supervivenza Io non sono Non sono capace Alberi Vi levate? Cioè non sono capace Io No Dov'era ora? Dov'è? Questa miniera Dove è spugata? Forse è spugata Da Magari C'è stato un terremoto Vedi io sono accaduto Da un pochettino Da questo buco Un pochettino più profondo Ma non si è Non si è visto Cioè proprio Ragazzi Ditevelo se voi l'avete visto Perché io non l'ho visto? Non l'ho visto questa cosa Cioè non Io non me ne sono rese conto Ma ancora mi inseguono Guardatevi Cioè per quanto devo correre io? Zombie Ora mi avete seccato Ora mi metto qua sopra Ecco Ecco Sopra l'albero Allora non ci credo ragazzi Non ci posso credere Ragazzi Cioè Ragazzi non me l'aspettavo Non Sono morto Nella vanilla Cioè Ragazzi Voi non mi immaginate Quanto ci ho messo io Cioè Allora Vi devo spiegare Gli episodi sono Messi in pausa Sono stati Oh l'ho ritrovato il posto Ma no Pure la strega Ci mancava la strega Deve essere ora Deve arrivare Aeropraina Ma dittemelo Deve arrivare Aeropraina Veramente Deve arrivare Aeropraina Ma per dire Tanto non è niente Aeropraina È solo Una creatura Che ti vuole distruggere Cioè Cioè Veramente Ma poi dove era Il drop Non c'era il drop Dai Mi faccio subito Una spada Subito Perché vi voglio difendere Da questi maledetti mostri Non ci credo Ragazzi Ma io poi Ho faticato A trovare anche Il villaggio Cioè ragazzi Io ci ho messo Tanto Cioè L'episodio È editato L'episodio Voi Non vedete Tutto il villaggio Vedete Solo le cose Più importanti Ma in realtà Io ci ho messo Tantissimo A fare tutte queste cose Quasi tre ore A registrare A preparare Eccetera Ora tre ore No però due ore Sì Due ore Sicuro quello Perché non me l'ha rotto Ok Ma c'è stato un lag Mi sa Ma morite Ma 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 te ne vuoi andare 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 No Poi devo riprendere la pietra Devo riprendere il letto No Io non ce lo voglia No Giù pure Sto morendo pure di fame No 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 Zombie No No Non è il momento Non è il momento Zombie Non è il momento Come si mette Tipo Why The Claire Claire No Non sono Ma perché sono trucchi No Quindi non posso Allora Non posso mettere Allora Non so neanche se era giusto il comando Non posso mettere Ehm No Gli scherzi no Non posso mettere Il coso Non posso mettere giorno E notte fonda Io sto morendo di fame Aspetta Questa è la direzione Dove ho trovato il villaggio Ma lo ricordo Qui mi sono accampato Aspetta Forse Il villaggio era là sotto Perché io vorrei Non parlare Perché sono felice Mamma Forse Posso accamparmi Nel villaggio Forse Ho un minimo Di speranza Per quanto deve piovere Scusatemi Io me lo ricordo Ho attraversato Questo qui Fra poco Voglio addirittura Di fame Perché mi mangio Non in realtà Nel Minecraft No 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 Non sto morendo Ma si muore Per la fame Non credo Rimane a mezzo cuore Rimane a mezzo cuore Rimane a mezzo cuore Rimango a mezzo cuore Cioè ora No ci sono gli annegati Devo fare per forza Il giro da là Credo che sia sorgendo L'alba Perché Fra poco Dovrebbe anche Smettere di piovere No 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 Mi sono Mi sono No Mi sono fregato No mi sono fregato Mi sono fregato Mi sono fregato Non dovrei morire Magali Muori Mangia 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 Vieni qua Prego Un altro Non ci credo Muori Muori Ok Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma poi avevo anche Quasi metti livelli Gli facevano un enchanting table Trovato l'ossidiana Non ci credo Non ci credo Ragazzi io non me l'aspettavo Ma poi Vi voglio riguardare Le registrazioni Prima di pubblicarla Perché ragazzi Io non so veramente Come sono morto Devo andare All'altra sponda Il villaggio era di qua Me lo ricordo Me lo ricordo Era nella pianura No Poi dove Aspetta Allora Qui c'era un ghiacciai Là ci sono le montagne Oltre le montagne Mi ricordo che c'era Il coso Il villaggio Mi ricordo Proprio che Oltre le montagne Ci dovrebbe essere Il villaggio Queste sono le stesse coordinate Le montagne Dovrebbero essere di là Dico le montagne Dovrebbero essere di là Ragazzi sta durando un pochettino Troppo Sta durando un po' Questo episodio Ma ragazzi Sono rimasto Scioccato Cioè Non Non me l'aspettavo Di morire Al test episodio Cioè Dopo questa armatura in ferro Dopo la mia fatica Tutto spercato Ma vi rendete conto? Mamma io devo registrare Sì Buongiorno Salve Ho chiamato questa mattina Dovrebbe andare di là Oltre le montagne Mi ricordo Letto 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 Posso farmi letto Posso farmi letto Puoi 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 Mi sei venuto C'è la mamma Ti prego Ok Stiamo facendo un ritorno Al passato Come sono le montagne? Là No Però io mi ricordo Che ho attraversato La foresta dei pini Sono andato Per questo tratto Mi ricordo Me lo ricordo ragazzi Per questo tratto Ho proseguito poi dritto Perché me lo ricordo Io me lo ricordo Perfetto Me lo ricordo perfettamente Sono andato dritto E questo Questa cosa è successa Nel primo episodio No Nel secondo Nel terzo episodio Dove io Ok Ho attraversato la foresta dei pini Mi ricordo Dove mancavano i blocchi Dove mancavano i blocchi Dove è che mancavano i blocchi Dove è che mancavano i blocchi E mancavano qua i blocchi Mi ricordo Nel stesso episodio Che avete visto ieri Cioè per me Ieri domenica Poi questo video Uscirà Cioè questo qui Lo sto registrando Un'edì Però uscirà un pochettino più Non riuscirà Sì mi ricordo Sì mi ricordo Qua mancano i blocchi Di qua dovrebbero mancare i blocchi Sì sì Ok Sono giusta direzione Mancano i blocchi Perfetto Qui c'è il cunicolo Il cunicolo buio Qualcuno mi ha killato Qualcuno mi ha killato Basta 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 Ora io continuo All'altra vanilla Ragazzi Ora io continuo L'altra vanilla Io continuo L'altra vanilla L'altra vanilla sarebbe Questa la cancello Questa qua la cancello Guarda Mi ha deluso Basta Non rimino No per sempre no Allora no Questo mondo sarà perso per sempre Proprio per sempre Ce l'ho proprio di ritrovare Allora che fai un backup Allora quindi Dov'è il mondo Copia del mondo 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 ecco Quello che tra è creativo e sopravvivenza Ragazzi Un saluto se vi è piaciuto il video Da me è tutto scusatemi E vabbè Dopo questo episodio è scioccante E bella